La morte di Moana Pozzi è misteriosa da tutti i punti di vista. Forse non è morta in quella data. Conoscendo bene Moana, era nel suo stile inscenare una morte per provare a cambiare vita o provare a curarsi. Come ogni cosa che arriva all'improvviso, crea sempre mille dubbi, mille domande. Quando sono arrivato, le ceneri gialle erano prese. Una terza persona, che non so chi è. Moana Pozzi! Moana Pozzi ha preso il porno e lo ha usato come un'arma per prevalere in un campo in cui le donne erano considerate oggetti. Moana era una droga, perché la gente prima o poi piaceva frequentarla, perché si sentivano bene. Moana aveva questo potere incredibile di riempire una stanza quando entrava.